Ebbene ragazzi, ieri era il 20 luglio 2019, serata bellissima perché ho partecipato allo spettacolo del mio amico Alessandro Paci, c'è stato un mio intervento comico, se non avete visto il video lo troverete qua sul mio canale YouTube, già la serata era andata bene, poi dopo lo spettacolo sono andato in un locale dove fanno musica dal vivo qua all'Elba, sono tornato alle 3 la notte, faccio per mettermi nel letto e vedo che all'ultimo comic con di San Diego hanno annunciato i film della fase 4 del Marvel Cinematic Universe, nessuno si aspettava che già ieri magari li dicessero, ci si aspettava tutti che magari i nomi sarebbero arrivati d'agosto, invece no, ieri hanno detto tutti i film della fase 4, poi non si è capito se alcuni titoli che hanno detto faranno parte della fase 4 o addirittura della fase 5, però era doveroso fare un video perché io ieri notte mi sono addormentato felice come una Pasqua, ero felicissimo perché dopo Spider-Man Far From Home noi sapevamo che il primo film della fase 4 sarebbe stato Vedova Nera, Black Widow in uscita nel maggio del 2020, però poi non sapevamo con esattezza gli altri titoli dopo Black Widow, sì ci avevano un po' detto qualcosa in anticipo però sapevamo che magari erano in lavorazione alcuni film ma non sapevamo l'ordine preciso di uscita e ieri sera ragazzi quest'ordine preciso di uscita ce l'ha andato e io in questo video vi dirò i film che usciranno e godrò insieme a voi che mi seguite di fronte a queste grandi cose che hanno annunciato. Dunque ragazzi ho l'iPad qua sotto mano per non dimenticarmi niente, parliamo dei film, parliamo dei film, bene dunque Black Widow uscirà nel maggio del 2020 quindi dobbiamo ancora aspettare un po' però intanto io vi invito lo stesso ad andare in sala a vedere quel film meraviglioso che è Spider-Man Far From Home. Nel novembre del 2020 in America il 6 novembre del 2020 uscirà il secondo film della fase 4 e cioè Gli Eterni. Dunque ragazzi Gli Eterni sì era uno di quei film che rumoreggiavano da parecchio tempo, uno di quei film che rumoreggiava scusate da parecchio tempo, si sapeva che l'avrebbero fatto ma non sapevamo dove sarebbe stato collocato nella fase 4. Gli Eterni rappresenta, il film Gli Eterni rappresenta un gruppo di supereroi che non conosco quindi sarà un piacere scoprire questi nuovi eroi del Marvel Cinematic Universe un po' come ai tempi non conoscevo nemmeno Capitano America quando è uscito il primo film o come non conoscevo Iron Man quando è uscito il primo film. Questi a differenza di Iron Man o Capitano America che comunque avevo sentito nominare non li avevo proprio mai sentiti nominare prima di sentir parlare di un ipotetico film su di loro. Passiamo al febbraio del 2021 quando uscirà Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Allora ragazzi su questo film già hanno rivelato delle succose anticipazioni anche Shang-Chi io non lo conoscevo assolutamente non lo conosco non so cosa senti come va questa moto spingi senti come va poascano si fanno male bisogna piangere insomma Shang-Chi questo film questo eroe che non conoscevo verrà insomma portato sul grande schermo ma qual è la cosa molto interessante di questo Shang-Chi in questo film vedremo come villain il mandarino ragazzi ora voi che avete odiato Iron Man 3 finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo nel sapere che il vero mandarino spangio e la moto che palle che il vero mandarino verrà rappresentato sul grande schermo perché ovviamente c'erano state critiche feroci al meraviglioso Iron Man 3 di Shane Black perché il mandarino è un attore avete rovinato una figura dei fumetti bene 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 perché io ripeto sempre che i fumetti sono una cosa il cinema è un'altra cosa se in un film vogliono fare un Joker giallo che mangia banane dalla mattina alla sera e che è nemico di Wonder Woman lo possono fare perché i fumetti raccontano una cosa i film ne raccontano un'altra se poi i film vogliono essere simili ai fumetti essere fedeli ai fumetti nessun problema ma se un regista alle palle di avere una libertà creativa e di fare quel che vuole ancora meglio perché il cinema è una cosa e i fumetti sono un'altra cosa non si sta parlando di documentari questa cosa io la ripeterò sempre infatti fui felicissimo di vedere l'Iron Man 3 dove come villain avevamo un finto villain alla fine perché in realtà il mandarino non era quello che tutti noi insomma pensavamo di vedere ricorderete quel film la gente l'ha odiata a morti invece per me è meraviglioso il grandissimo Shane Black ha avuto il coraggio di strafare l'ha fatto nel migliore dei modi prendendo un personaggio uno dei villain più iconici e trasformandolo totalmente quindi i miei complimenti e ora per la prima volta vedrete quello vero siete contenti ora anzi per me il tutto è ancora più bello perché magari ora il vero mandarino potrà essere anche incazzato perché comunque se venisse a scoprire che uno ha preso il suo posto insomma non penso che il mandarino sia felice quindi secondo me ci potrebbero essere anche dei rimandi a Iron Man 3 chi lo sa staremo a vedere io vi posso solo dire che per la felicità di tutti coloro che erano rimasti delusi da Iron Man 3 finalmente si potrà vedere il mandarino in carne ed ossa quindi vedremo un po come verrà rappresentato vedremo un po come si insomma presenterà in questo film Shang-Chi io sono molto curioso e niente quindi era doveroso dirlo il maggio del 2021 nel maggio del 2021 vedremo Doctor Strange in the Multiverse of Madness il sequel di Doctor Strange e ragazzi tenetevi forte ovviamente la regia sarà sempre di Scott Derrickson Doctor Strange 2 sarà il primo film horror del Marvel Cinematic Universe ora prendiamo con le pinze la dicitura film horror perché hanno parlato di film spaventoso il primo film spaventoso dell'universo Marvel ora non so veramente quanto possa esserlo davvero cosa si intenda per horror forse avrà dei toni più cupi e più dark ma si parlerà davvero di horror questo lo scopriremo solo vivendo quindi quando andremo in sala staremo un po a vedere ovviamente vi posso dire che la curiosità è tanta anche perché insieme a Doctor Strange la protagonista sarà anche Scarlet Witch quindi Elizabeth Olsen farà parte del cast e io sono contentissimo beh ragazzi sarà horror non sarà horror resta il fatto che il primo l'aveva amato di Doctor Strange quindi la mia curiosità è alle stelle questo film poi si collegherà anche alla serie tv su su Scarlet Witch Wanda Vision si collegherà alla serie voi sapete che le serie del Marvel Cinematic Universe non è che si devono vedere per forza per capire i film però comunque ampliano no le cose mostrate nei film sicuramente le recupererò tutte queste serie benissimo c'è un faretto della luce in questa stanza che si sta spegnendo e riaccendendo spero non vi dia fastidio in video nel caso si notasse però ho parlato di Doctor Strange e magari è stato lui con una scureggia poi l'ha fatto riaccendere bene insomma Doctor Strange in The Multiverse of Madness si avrà il coraggio di rendere veramente un film del Marvel Cinematic Universe horror si avrà il coraggio di vietarlo ai minori non è mai stato vietato un film per ora del Marvel Cinematic Universe vietando un film ai minori di 14 anni perché ovviamente non andrei mai a pensare ai 18 è una cosa assurda si taglia una fetta di pubblico i bambini grandi amanti del Marvel Cinematic Universe non potrebbero andarla a vedere quindi io sono più dell'idea che il film si potrà avere delle scene più dark più coupe ma non sarà assolutamente un film vietato ai minori ne sono convinto vedremo un po' però cosa ci regalerà Scott Derrickson quindi dopo Black Widow dopo gli Eterni dopo dopo Shang-Chi dopo Doctor Strange a sorpresa il 5 novembre del 2021 in America non sappiamo ancora quando in Italia però sicuramente sempre nel 2021 uscirà Thor Love and Thunder carissimi amici miei inaspettatamente pochi giorni fa si era ufficializzata la notizia di un quarto capitolo su Thor nuovamente con la regia di Taika Waititi e beh questo film non solo è stato annunciato ma farà parte della fase 4 io ero convinto che ormai facesse parte della fase 5 perché insomma Kevin Feige e così via aveva già parlato di un piano di lavorazione già ben scritto organizzato per i prossimi film quindi pensavo che Thor finisse nella fase 5 magari ma invece no arriva Thor Love and Thunder diretto da Taika Waititi io ho amato Thor Ragnarok in tanti l'hanno odiato io no perché ho apprezzato anche lì il coraggio di un regista di cambiare in corsa anche il carattere di un personaggio e rendere il tutto più comico il film mi è piaciuto tanto perché comunque oltre alla comicità portava su grande schermo momenti davvero emozionanti e coinvolgenti con battaglie fighissime quindi sono curioso di vedere anche questo capitolo per di più perché come coprotagonista avremo nuovamente Natalie Portman che era lasciata in disparte in Thor Ragnarok la vedevamo poco e niente in Endgame quindi sono felicissimo di vederla come nuovamente coprotagonista in Thor Love and Thunder e hanno anticipato che lei rappresenterà il Thor donna ragazzi la mia curiosità è alle stelle so che sicuramente non mancherà la comicità mi fido di Taika Waititi mi fido di Chris Hemsworth sarò curioso di vedere anche se poi Chris Hemsworth continuerà il suo cammino nei guardiani della galassia 3 perché saprete benissimo alla fine di Endgame cosa accade vedremo un po' ragazzi vedremo e io posso solo dirvi che la mia felicità è alle stelle anche perché con Thor si va a mostrare il primo quarto capitolo del Marvel Cinematic Universe perché tutti gli altri personaggi hanno avuto una trilogia Capitan America ha avuto una trilogia Iron Man ha avuto una trilogia vabbè gli altri Black Panther Doctor Strange ancora devono arrivare a concludere la trilogia Spider-Man però Thor per ora è l'unico supereroe a comunque aver avuto un quarto capitolo che uscirà quindi questa è una cosa particolare sicuramente magari prima o poi potrebbero esserci anche nuovi eroi che andranno oltre alla trilogia chi lo sa tipo secondo me Spider-Man lo vedremo in molti più film visto che è così giovane staremo a vedere però vi posso dire che veramente sono felicissimo e non saprei cos'altro aggiungere perché veramente non mi aspettavo che annunciassero queste bombe quindi questi sono cinque film da quel che ho capito la fase 4 dovrebbe contenere 10 film non ne sono sicuro però dovrebbe contenere 10 film se ne dico 10 perché i film che sono stati annunciati sono 10 magari però qualche film farà parte della fase 5 quindi magari non so io vi dico quel che è stato annunciato ieri sera se i film della fase 4 fossero 10 vi dico i restanti 5 dunque ragazzi guardiani della galassia 3 non vedo l'ora di vederlo si diceva si vociferava che avrebbe potuto chiamarsi asgardiani della galassia però alla fine no il titolo esatto sarà guardiani della galassia volume 3 ci sarà tor non lo sappiamo io me lo auguro dopo il finale di endgame sarebbe scontata come cosa però staremo un po a vedere io non vedo l'ora di vedere cosa accadrà in questo nuovo terzo capitolo sempre diretto e scritto da james one la mia curiosità è nuovamente alle stelle anzi non solo alle stelle all'universo intero e dunque poi andiamo oltre andiamo oltre con captain marvel 2 è il film che attendo meno perché il primo si è stato molto carino ma non mi ha fatto impazzire l'ho anche rivisto poco tempo fa in un video col mio amico vaccaro però non mi ha fatto impazzire sono sincero il film che preferisco meno di tutto l'universo cinematografico marvel non mi sta troppo simpatica captain marvel la storia non mi fece impazzire non mi fece esaltare però magari questo secondo capitolo potrà regalarmi delle sorprese chi lo sa che magari non ci sia qualche altro supereroe con lei magari spoiler per chi non ha visto spider man far from home magari ritroveremo nick fury anche in captain marvel volume 2 staremo un po a vedere sono curioso però allo stesso tempo è quello che proprio attendo meno black panther 2 eccoci il primo l'avevo trovato meraviglioso quindi non vedo l'ora di vedere questo sequel in questo video ragazzi come starete vedendo sto solo annunciando i titoli e dicendovi che sono felice non potrei sbilanciarmi nel dirvi quel che accadrà perché le storie sono difficili da ipotizzare boh chi lo sa quindi scusate se magari non entro dentro alla storia quel che potrebbe accadere perché non sono un lettore dei fumetti quindi non ci possa arrivare magari a logica pensando al fumetto e poi non me ne frega nulla dei fumetti non hanno ancora anticipato niente quindi staremo un po a vedere blade ragazzi blade ragazzi blade ragazzi questa è stata una notizia bomba non me lo sarei mai aspettato dopo i tre film cinematografici di blade ovviamente dove ha lavorato il grande guillermo del toro come regista del secondo capitolo non mi sarei mai aspettato che facessero un film sull'ammazza vampiri su blade cioè anche qua sarò curioso di vedere sarò curioso di vedere come riusciranno magari a non renderlo vietata ai minori insomma per blade l'horror sarebbe molto azzeccato però allo stesso tempo essendo un film del marvel cinematic universe beh potrebbe rischiare di lasciare fuori dalla sala un bel po di pubblico e visto che questi film sono tutti collegati fra di loro poi sarebbe magari un po assurdo che magari la gente i bambini non vedano blade e poi magari vanno a vedere il futuro film del marvel cinematic universe magari ci sono dei collegamenti e non vengono capiti quindi secondo me staranno attenti al vietarla ai minori poi magari sarà un horror leggero un teen horror quindi non sarà vietato ai minori poi magari è vero che anche queste persone potrebbero tranquillamente recuperarle in un video però allo stesso tempo è vero anche che in sala fanno entra chiunque però insomma la curiosità è tanta veramente tanta rivedere l'ammazza vampiri interpretato da marshall e che continua a galoppare dopo green book non si ferma più vedremo come ucciderà i vampiri vedremo cosa accadrà immaginarmi di vedere blade insieme agli altri supereroi sarà fighissimo e poi carissimi 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 amici miei è stato annunciato anche un film sui fantastici quattro dopo che la disney ha acquisito ha acquisito a tutti gli effetti la fox ora la disney detiene i diritti sia dei fantastici quattro sia degli x-men quindi sarà bellissimo poter vedere i fantastici quattro in questo universo non vedo l'ora gioisco solo al pensiero e non mi aspettavo assolutamente che questi film magari che questo film lo vedessimo all'interno della fase quattro non me l'aspettavo immaginavo magari già nella fase 5 nella fase 6 perché insomma avevano detto di aver organizzato già i prossimi film staremo a vedere non si è ben capito se i fantastici quattro farà parte della fase 4 o della 5 però l'hanno annunciato mentre parlavano della fase 4 quindi potrebbe benissimo darsi che nel 2023 esca davvero i fantastici 4 che faccia parte della fase 4 che possa essere il film conclusivo della fase 4 non lo so ovviamente sono stati rammentati anche gli x-men però di confermi ufficiali non ce ne sono state quindi io vi dico quel che è stato annunciato al comic con io sono felicissimo questi sono i film io sono esploso dalla gioia esploso dal piacere sono veramente stato lì nel letto fermo a dire non ci credo che bellezza mi sono addormentato felice me li sono sognata anche la notte viva la serialità nel cinema e nel di dietro a tutti quelli che ovviamente criticano con odio il cinema invece no il cinefumetto invece no perché addirittura questo non l'ho detto il nostro avengers and game è riuscito a superare avatar e la mia felicità è alle stelle però su questa cosa farò un video a parte poi magari la prossima settimana perché voglio proprio fare un video quando saranno usciti dati ufficiali quindi per dirvi numeri precisi in questi giorni lo sta proprio recuperando secondo le stime già la prossima settimana il prossimo weekend avrà superato totalmente avatar di james cameron quindi io la prossima settimana farò un video a riguardo perché altrimenti ora dovrei essere più conciso dovrei essere più insomma ipotetico nei pensieri e quindi non voglio voglio dirvi le cose con certezza però sono felicissimo questo voglio dirvelo ovviamente per quanto riguarda la fase 4 non sono mancate anche le serie tv perché tra black widow e gli eterni cioè tra il maggio del 2020 e il novembre del 2020 uscirà la serie tv the falcon and the winter soldier praticamente la serie tv su su falcon e winter soldier il soldato d'inverno su disney plus io non vedo l'ora di recuperarla non vedo l'ora di godermela amo il fatto che la serialità televisiva vada a mischiarsi insieme alla serialità cinematografica poi sicuramente proprio come agent of shield serie che ho visto poco e niente che vorrò recuperare tutta sicuramente anche queste serie qua amplieranno le cose raccontate nei film racconteranno magari di personaggi visti nei film ma sicuramente sono convinto che proprio come agent of shield non è che siano indispensabili per coloro che si vogliono vedere solo i film al cinema ne sono convinto però staremo a vedere almeno per agent of shield è sempre stato così agent of shield si ha ampliato certe cose che ci sono state raccontate nei film ma non è che se te non vedevi agent of shield non capivi poi film successivi vediamo con queste nuove serie una cosa è certa le vedrò tutte the falcon and the winter soldier poi tra shang chi cioè tra il febbraio del 2021 e dr strange nel maggio del 2021 usciranno due serie tv nella primavera del 2011 e cioè lochi la serie tv su lochi e io non vedo l'ora di vederla non si sa ancora cosa racconterà e wandavision la serie su scarlet witch e anche qua la mia curiosità è incredibile non vedo l'ora sicuramente si creeranno anche dei micro universi nel macro universo di tutto il marvel cinematic universe fra queste serie poi uscirà da quel che ho capito questa serie che si chiama what if nell'estate del 2021 che è una serie a cartone animati non ho ancora ben capito di cosa tratterà però tra il doctor strange del 2021 e il thor del novembre del 2021 uscirà anche un'altra serie oltre a what if e cioè e cioè occhio di falco la serie su occhio di falco con jeremy renner non me l'aspettavo assolutamente la serie su occhio di falco ma sarò felicissimo di vederla quindi ragazzi queste sono le notizie succose uscite fuori dal comic con di san diego mi ritengo soddisfattissimo non vedo l'ora viva la serialità viva il cinema viva il cinema supereroistico viva il cinema in generale i marvel studios ormai comprati dalla disney studios sono veramente eccezionali formidabili che vi infaglia una mente incredibile pensare che stanno riscuotendo così tanto successo e che hanno in mente ancora tanti altri film a me fa solo che piacere ovviamente dico sempre che amo i cinefumetti ma vorrei tanto che l'agente guardasse anche altro però vabbè questi sono altri discorsi quindi che dire le notizie bomba sono arrivate i film che attendo di più sono assolutamente quelli i tre che attendo di più dunque metterei al primo posto thor perché io amo thor non vedo l'ora di vederlo nuovamente con natali portman portman al secondo posto doctor strange che sarà un horror e questo mi ispira parecchio e al terzo posto io metterei metterei allora mi verrebbe da dire i guardiani della galassia però con i guardiani della galassia voi già sul sicuro che sicuramente sarà bellissimo invece dico i fantastici 4 perché dopo il flop dell'ultimo film che io non ho visto sarò curioso davvero di vedere come il marvel cinematic universe farà risorgere questo franchise però ovviamente questi sono i tre film che attendo di più ma ovviamente sarò curiosissimo anche di vedere blade capire quanto si spingeranno in là con l'horror sarò curiosissimo di vedere shang chi perché ripeto vedremo il vero mandarino chissà se ci saranno dei rimandi iron man 3 non lo so però vi posso dire che sono felicissimo e sono curioso di sapere la vostra cosa vi aspettate da questi film vi aspettate grandi cose fanno bene secondo voi a continuare a sfornare tanti film cosa ne pensate della serialità nel cinema per voi è geniale come penso io oppure no fatemi sapere io vi ringrazio vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao